salve a tutti ben ritrovati success trainer e ben ritrovati con una video analisi quella di oggi per me è importantissima infatti farò vedere la partita che ho giocato ad arco contro il maestro fidelessio de santis che per me è stato un maestro per tanti e tanti anni infatti nei tempi quando non c'era il chess base non c'era il motore o meglio sì c'erano i motori ma io mi ricordo iniziato con frizzotto nel 2004 diciamo non potevi usarlo per farci chissà che quindi tutta la mia conoscenza scacchistica passava per i miei maestri di allora particolare mario ferro che mi piace ricordare sempre e anche e soprattutto grazie ai libri di alessio de santis io li avevo tutti io ancora li tengo come se fossero delle delle reliquie perché davvero i miei primi anni scacchistici sono tutti firmati da alessio anche tutti i libri sono tutti autografati o anche le scacchiere comprate da de santis diciamo per me è stato un idolo in tanti anni giovanile finalmente per la prima volta ho avuto l'opportunità di giocare contro di lui in in un torneo peraltro ok non voglio dilungarmi troppo perché voglio concentrarmi sulla partita sull'analisi torneo molto 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 importante per me infatti se mi avete seguito nelle ultime settimane avete visto che ho vinto primo assoluto il festival internazionale di arco ed è il primo festival internazionale a nove turni della mia vita che riesco a vincere altro vincere un festival così antico a livello a livello italiano è incredibile per me c'è tanta storia tanta tradizione dietro questo dietro questo torneo poter mettere il mio nome accanto quello di tanti altri giocatori forti in particolare una nota curiosa questo torneo non veniva vinto da un italiano dal 98 da michele godena quindi 23 anni dopo sono riuscito a far tornare la bandiera italiana sul gradino più alto del podio quindi da michele godena michelle vabbè il nome è quello quindi bene così comunque a parte questa battuta di basso spirito apriamo apriamo la nostra interfaccia interfaccia col chess base per parlare in maniera un po più tecnica e più interessante allora partiamo subito dal dire che prepararsi contro dei santi sia una delle cose più difficili che si possa fare in un torno di scacchi questo perché come sapete vi ho scritto molti libri su alcune difese meno popolari ha fatto un libro sull'ippopotamo che adesso vedremo ha fatto un libro sulla on che è 4b6 ha fatto addirittura un libro uno dei primi uno dei primi che io addirittura comprai fatto un libro su questa particolare pirk con c6 che lui chiamo pirk coccodrillo e ovviamente tutte queste tutte queste aperture sono l'apertura minori a gioco corretto il bianco a vantaggio ma come dico sempre un'apertura minore è tale se noi riusciamo a dimostrarlo quindi se noi conosciamo bene la nostra preparazione e il modo per avere vantaggio contro queste linee sicuramente non avremo nulla da temere però lo dobbiamo sapere e quindi prima della partita ho dovuto preparare tutte queste varianti che che desantis avrebbe potuto giocare poi arriva alla partita e gioca la difesa siciliana che è una delle difese principali degli scacchi in particolare su io ho giocato l'ordine con cavallo c3 lui ha giocato e 6 e quindi siamo entrati in una siciliana e 6 una delle aperture più più famose ai nostri giorni probabilmente una delle siciliane più interessanti perché diciamo che c'è leggermente meno teoria in quest rispetto che che nella neidorf o anche il dragone stesso anche la svechnikov stessa quindi questo è molto interessante per 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 giocare un territorio non voglio dire inesplorato perché anche qui ovviamente abbiamo tantissima teoria però più più nuovo rispetto a neidorf svechnikov ormai la molle di teoria è impressionante ok piccola nota come vi ho detto prima ho dovuto preparare tante cose prima di questa partita e quando prepari tante cose va a finire che qualcosa te la scordi in particolare e questa è la nota divertente contro questa apertura cavallo c6 d4 donna c7 questa apertura è l'apertura time on off o anche polsen viene chiamata in questa apertura a me piace giocare molto questa mossa f4 e qui l'idea è che dopo la mossa 6 si mangia in c6 sostanzialmente si riprende di pedone o anche con la regina e il bianco ha sempre questo piano quello di giocare alfiere d3 donne 2 alfiere d2 arroccare lungo corto a seconda delle circostanze e godere di questa posizione con vantaggio centrale spesso vantaggio di iniziativa quindi questa diciamo è una delle varianti principali per giocare contro la time on off se non che se non che desantis qui gioca a 6 che la variante canne quindi dopo d4 mangio cavallo per d4 qui gioca donna c7 quindi il nero non ha messo il cavallo in c6 ok io qui di solito mi piace molto giocare questa variante giocare qui alfiere d3 perché in questa maniera su cavallo c6 banalmente si mangia in c6 e si gioca f4 e siamo rientrati dove nel territorio che vi ho descritto poco prima ecco io in questa posizione arrivato alla scacchiera ho avuto una specie di mini blackout e ho giocato la mossa f4 che non è la mossa che avrei dovuto fare perché ovviamente in questa posizione il nero non è forzato a giocare la mossa cavallo cavallo c6 sembra una differenza minimale ovviamente piccola parentesi f4 qui non è una mossa che perde o che dà vantaggio al nero è semplicemente un'altra variante dove secondo me il nero è un gioco più più semplice quindi avrei dovuto giocare così questo perché nella partita dopo f4 desantis gioca b5 e quindi non fa cavallo c6 e adesso vi farò vedere perché questa variante è più forte dell'altra su alfiere d3 in caso di b5 io adesso non sono forzato ovviamente a fare la mossa f4 qui posso banalmente arroccare e fare una rapida torre 1 questo schema ci permette di lottare in maniera molto efficace contro la mossa cavallo f6 che è uno dei modi principali in cui il nero vorrebbe svilupparsi perché io adesso gioco e5 e nel fare questo io non ho uno perso il tempo di f4 due ho già la torre che sostiene diciamo non solo il pedone ma il centro in generale e 3 questa diagonale non è debole perché non ho fatto f4 quindi contro questo schema io non voglio fare f4 quindi questo per farvi un po capire l'inversione che ho fatto in apertura qui purtroppo ho fatto f4 e dopo b5 alfiere d3 quindi io provo a trasporre quindi su cavallo c6 effettivamente io posso mangiare c'è una trasposizione ma giustamente dopo cavallo f6 donne e2 alfiere b7 a questo punto la trasposizione non avviene intanto perché qui non posso arroccare perché ho dei problemi seri sul cavallo in d4 vi faccio vedere i problemi piuttosto seri che arrivano su questo su questo cavallo in d4 invece nell'altra variante che vi ho fatto vedere prima il cavallo era stato cambiato in c6 quindi non c'era più il rischio che io perdessi un pezzo in d4 quindi questo è il primo risultato delle dell'inversione che ho fatto secondo secondo problema è che qui io devo trovare una mossa e in particolare la mossa naturale come vi ho detto prima alfiere d2 secondo me qui è un'imprecisione importante nonostante il computer dia la solita parità perché qui secondo me dopo b4 cavallo a4 e d5 il nero ottiene un contro gioco incredibile che in tutte le altre varianti di questa linea non otterrebbe quindi io assolutamente non voglio concedere questa questa posizione qui rischio in tanti in tanti modi perché la casa e4 non è più sotto il mio controllo quindi il cavallo può andare in e4 in maniera davvero davvero fastidiosa e in questa posizione io quindi sono costretto a giocare a3 a3 che impedisce la mossa la mossa b4 e infatti de santis qui non gioca b4 in realtà bisogna capire come confutare b4 perché non è chiaro perché dopo b4 io ovviamente posso mangiare alfiere per e qui ci sono dei problemi perché il nero sta attaccando anche la casa f4 sta attaccando la casa c3 quindi sembra interessante giocare b4 alfiere per b4 però qui c'è a rocco corto che è molto molto forte l'idea è che siccome il nero è in totale ritardo di sviluppo in questa posizione non può permettersi delle avventure quali donna per c3 perché oltre a re indietro di sviluppo ha dei problemi soprattutto su questa diagonale sulle case scure in particolare qua c'è una mossa molto molto bella che è torre a4 che è una mossa che va uno a difendere il cavallo due a creare dei problemi contro la donna avversaria e tre mossa successiva alfiere a3 e il il nero non non arrocca più quindi questa posizione è un disastro è super vantaggio del bianco quindi il nero non può mangiare questo pedone ecco spiegato perché qui a3 è una mossa che blocca b4 e qui correttamente dei santi si gioca la mossa più forte che cavallo c6 e adesso da un lato io ero contento perché dico ah che bello mangio in c6 più o meno riesco a rientrare negli altri schemi il problema è che in questa posizione io devo mangiare in c6 fin qui ci siamo ma il nero ha a disposizione una mossa che in realtà desattis non ha fatto però è la mossa che realmente da quel plus e che punisce la mia inversione e che è alfiere per c6 perché se noi andiamo a guardare le posizioni cioè quella che vi ho fatto vedere prima quindi la posizione di prima questa qui dove io faccio cavallo per c6 ovviamente qui non c'è la possibilità di fare alfiere per c6 quindi il fatto che in questa invece l'alfiere sia già stato sviluppato e quindi il nero mangia dopo in c6 dà l'opportunità di mangiare di alfiere che è un pezzo che sta molto bene in d7 perché libera anche questa casa per la donna fa grande pressione in questo centro in questa diagonale questa è una posizione che il motore valuta pari ovviamente qui si arrocca alfiere 7 alfiere d2 insomma si gioca in maniera piuttosto normale però il nero sta molto meglio rispetto all'altra variante quindi questo è il modo di raggiungere la parità per il nero in maniera molto più semplice desantis però qui ha mangiato con mia grande sorpresa col pedone d questa mossa a livello strutturale non è tanto buona però bisogna stare attenti perché qui il nero ha un'idea molto pratica rapida efficace se il nero riesce a mettere in moto c5 c4 alfiere c5 ovviamente il nero ha una gran posizione quindi qui bisogna essere molto ma molto concreti e quindi io ho una mossa che è forzata in questa posizione che è quella di fare i5 la mossa i5 serve per andare a sfruttare queste case in particolare dopo che il cavallo andrà in d7 io posso fare cavallo e4 quindi vado proprio a controllare queste case che sono molto importanti notare notare che qui è meglio cavallo d7 perché cavallo d5 dopo cavallo e4 diciamo che mi lascia un po il controllo della situazione in particolare dopo c5 io posso valutare qui immediatamente mostre come c4 quindi il pedone non va da nessuna parte e quindi cavallo d7 cavallo e4 e l'idea appunto come ho fatto vedere prima è che qui c5 subito non funziona grazie alla mossa c4 quindi questa è l'idea della posizione del bianco idea della struttura mossa quasi ovvia cavallo cavallo c5 quindi infatti desantis non ha neanche pensato in questo frangente e qui ho fatto una mossa molto molto frettolosa che pensavo fosse unica ho mangiato in c5 che pensavo fosse la mossa pensavo di non dover pensare per fare cavallo per c5 in realtà qui c'è un'idea molto molto forte che è quella di giocare la semplice alfiere d2 quindi dare priorità allo sviluppo perché in realtà cavallo per d3 non è una minaccia perché questa posizione è una posizione dove io non ho fatto non ho fatto caso a quest'idea con donna g3 e l'idea è che su c5 c'è cavallo d6 e quando si mangia io mangio in g7 e questa posizione è terribile per il nero perché il re è davvero a spasso e gli alfieri di colore contrario ricordatevi che questo non è un finale c'è ancora i pezzi pesanti e con gli alfieri di colore contrario ci sarà un forte forte fortissimo attacco specialmente visto che il nero ha il re molto debole quindi questa variante io non l'ho per niente valutata quindi lasciare l'alfiere perché in fondo cavallo d6 non me la toglie nessuno e io vado a togliergli il suo alfiere lui ha problemi sulle case scure ok mi è completamente sfuggita e ho giocato quindi cavallo per c5 istantaneamente oserei dire e dopo alfiere per c5 ho fatto una mossa che per come vedremo la partita è una mossa strutturale che mi fa vincere la partita perché ho giocato c4 che è il modo tipico di giocare in queste posizioni l'idea di c4 è quella di creare dopo b per c4 alfiere per c4 un danneggiamento strutturale e quindi ipoteticamente avere un finale superiore ed è proprio il modo in cui ho concretizzato la partita ovviamente prima o dopo io farò alfiere d2 e torre c1 quindi in generale il nero è quasi sempre forzato a mangiare in c4 quindi non è che se sta fermo risolve qualcosa e quello che mi è un po sfuggito o meglio non mi è sfuggito però non pensavo fosse così tanto grave è che in questa posizione dopo b per c4 alfiere per c4 è vero che il nero ha delle debolezze però a livello dinamico io ho dei seri problemi con il mio re che non sa esattamente quello che deve fare quindi dal punto di vista strutturale ci siamo l'idea è buona ma dal punto di vista dinamico no assolutamente no infatti qui ho avuto qualche problema in realtà questa posizione è molto buona per il bianco io posso semplicemente giocare alfiere d2 l'idea di alfiere d2 è quella su arrocco corto di arroccare arroccare lungo e attaccare sul lato di re addirittura il motore suggerisce h4 subito qui e di giocare in questa maniera e questo perché se noi notiamo gli alfieri del nero stanno puntando sul lato di re quindi quando io vado ad arroccare lungo gli alfieri non mi stanno attaccando più invece i miei alfieri stanno andando a fare pressione sul lato di re quindi il mio attacco è molto più rapido del suo questo in partita non non l'ho capito e forse sono stato tentato dal fare immediatamente c4 che è una mossa a livello posizionale che va fatta quindi qui alfiere d2 a rocco lungo sarebbe stata una scelta migliore comunque vediamo com'è andata la partita quindi con c4 b per c4 fi per c4 e qui desantis arrocca che è un'imprecisione perché come vi ho detto il vantaggio del nero in questa posizione se c'è vantaggio è un vantaggio di tipo dinamico quindi deve essere molto rapido in particolare qui la mossa da fare era donna b6 donna b6 mi dà tanti 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 grattacapi questo perché l'alfiere non può essere sviluppato in nessuna casa e ho sei le difficoltà a liberare i miei pezzi addirittura in questa posizione avrei trovato avrei dovuto trovare una mossa quasi unica che è h4 una mossa molto difficile da fare l'idea di h4 ovviamente è quella di alzare la torre e entrare in gioco in questa maniera o anche con l'idea che sto dopo torre h3 sto difendendo la casa e 3 posso fare alfiere 3 quindi diciamo l'idea per continuare a giocare per il bianco era molto difficile non so se se l'avrei trovata in partita la mossa la mossa h4 con l'idea di torre h3 però fortunatamente per me dei santi si è fatto a rocco corto e questo diciamo in realtà vi permette di giocare in più modi io qui ero sicuro che la mossa più forte fosse alfiere 3 che è la mossa più naturale il problema è che questa posizione dopo alfiere per e3 donna per e3 c5 e adesso finalmente posso roccare è una posizione abbastanza pari il bianco non ha nessun problema però come si evolve questa posizione il nero farà pressione su b2 il bianco farà pressione su c5 il nero mangerà b2 il bianco mangerà c5 il finale sarà super 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 pari anzi addirittura oserei dire che secondo me l'alfiere del bianco il bianco del nero scusate è un pezzo superiore rispetto al mio perché non so mi dà un po di fastidio quindi questa posizione si è stra pari comunque secondo me non ci sono chance di vittorie e quindi qui ho giocato la mossa alfiere di due che non è una mossa corretta ma avevo un'idea in mente davvero davvero interessante perché qui la mossa che gioca dei santi se torre fd8 che è la mossa che pensavo anche io ed è la mossa più naturale del mondo che in realtà è la mossa sbagliata e fra un po capiremo perché perché la mia idea qui dove torre fd8 è quella di fare arrocco lungo che è una mossa sembra folle però in realtà ci sta il re al momento non corre pericoli e adesso ho una minaccia immediata che è quella di giocare alfiere c3 e se riesco a mettere l'alfiere in c3 e dopo faccio f5 e il bianco sta molto molto meglio questo perché l'alfiere del nero non sta giocando e come vi dicevo prima se io apro il gioco è il bianco che gli alfieri più forti quindi alfiere c3 f5 una gran minaccia e quindi qui dopo arrocco lungo dei santi si è forzato a giocare alfiere d4 però io avevo visto questa variante qui f5 che è una mossa molto molto forte e qui dei santi si ha fatto un errore perché ha mangiato in e5 adesso vedremo perché è un errore ma devo dire che qui la posizione non è facile per per il nero perché avrebbe dovuto trovare e per f5 e 6 f per e6 e qui l'idea della mia della mia variante non è quella di mangiare subito in e6 ma quella di giocare alfiere g5 che è una mossa molto 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 fastidiosa questo perché la torre è sovraccarica e non ha una casa buona per andare a difendere questo questo alfiere perché appunto se va ad esempio in d7 io posso mangiare 6 e poi mangio la torre e in questa posizione io pensavo fosse assolutamente vantaggio vantaggio bianco in realtà qui c'è una mossa fortissima che è il re h8 il nero sacrifica la qualità e diciamo dopo donna per e6 donna g5 scacco e c5 è vero che il bianco ha una qualità in più però l'alfire in d4 è un pezzo estremamente forte e quindi il nero ha del controgioco la posizione è vautata pari dal motore però ok questo è giocabile però in partita io dopo alfiere g5 non ho visto il re h8 pensavo che alfiere g5 fosse una mossa estremamente forte e sicuramente anche desantis si sarà preoccupato della stessa variante infatti qui ha mangiato in e5 scusate che è una mossa una mossa errata questo perché io posso mangiare in e5 mangio in e6 e qui torre h1 è una mossa molto molto forte questo perché alfiere per h2 non è possibile per una bellissima combinazione che torre per e6 adesso io sto minacciando matto ho scoperture varie quindi re h8 dopodiché torre h1 l'alfiere si muove e c'è questa mossa incredibile che è torre e h6 e il nero non ha nessun modo di difendere il pedone h7 e con matto a seguire perché se mangia c'è alfiere c3 ed è matto in in due quindi questa è la combinazione che mi permette qui di giocare torre h1 e il nero non ha niente di meglio che giocare alfiere f6 dopodiché io mangio in e6 e re h8 stessa idea di primo scoperture varie e a questo punto io avrei potuto immediatamente giocare la mossa per andare in finale con alfiere c3 e vi spiego dopo perché questo finale dopo alfiere per c3 b per c3 è superiore per il bianco però visto che tanto ci siamo finiti vi faccio vedere come è andata la partita io qui pensavo di avere a livello dinamico un gran vantaggio quindi non volevo assolutamente cambiare i pezzi ho giocato torre 1 a questo punto c5 questo perché la mossa alfiere per b2 è un po sospetta perché io posso mangiare e dopodiché dopo torre d8 torre 7 ho una fortissima pressione sulla sulla settima e ci sono tante mosse che mi possono dare vantaggio qui forzata torre b8 e qui interessanti sia torre c7 idea torre 7 sia torre b1 tutte e due molto molto interessanti e quindi alfiere per b2 non è una minaccia e desantis qui ha giocato c5 questo punto io ho giocato alfiere a5 e piano piano ho iniziato a capire che ho dovuto fatto g3 perché il padone era sotto e dopo h6 ho giocato h4 per andare anche a controllare la casa g5 e qui diciamo mi sono un po pentito ho capito che forza avrei dovuto prendermi il finale perché effettivamente a livello dinamico non ho tutto sto granché in questa posizione quindi era preferibile giocare il finale ma ci rientriamo subito perché dopo alfiere c8 che è una mossa abbastanza chiamata io faccio torre 8 alfiere f5 torre per a8 torre per a8 alfiere c3 e ovviamente qui diciamo non ci sono molte mosse per il per il nero che è forzato a mangiare ed entriamo questo in questo finale che volevo discutere di cui volevo discutere prima perché questo finale è estremamente buono per il bianco la risposta è per le posizioni dei re il mio re sarà subito molto attivo e molto forte il suo re sarà tagliato fuori dalla partita e questo in finale è molto molto importante oltre a questo qui c'è anche una motivazione tattica infatti ho una minaccia immediata che è quella di giocare torre 5 guagnano un pedone e in nessun modo il nero può impedire questo infatti sta giocata g6 torre 5 torre c8 e adesso io posso mangiare a6 quindi guadagno un pedone per la precisione qui vediamo cosa succede dopo alfiere per a6 perché tanto è tutto forzato torre a8 alfiere b5 torre per a3 e qui importante non mangiare subito ma quello di attivare l'importante è attivare prima il re quindi re b2 torre 8 torre per c5 e giochiamo questo finale con un pedone con un pedone in più tuttavia invece di alfiere per a6 qui avrei potuto fare una mossa molto molto più forte che era a4 e dopodiché mangiare a6 mi ero spaventato non so perché della mossa a5 ma in realtà io qui posso fare torre 7 banalmente giro con la torre me li mangio tutti questo sarebbe stato onestamente un finale più semplice da vincere però come mi piace complicarmi la vita qui ho giocato così torre 8 torre per c5 torre d8 e qui la manovra fondamentale torre 5 idea poi torre 3 e tengo il pedone in più stavo giocato a torre d1 e qui intanto devo dire che siamo entrambi in zeitnot quindi abbiamo entrambi un minuto e io qui ho fatto in precisione che c4 avevo dovuto fare prima re a3 molto più precisa perché c4 dà l'opportunità al bianco di giocare torre d2 scacco re c3 torre d3 re b4 e di mangiare g3 in realtà è un po simile alla partita però il nero fa questo con un tempo in più e in particolare qui all'opportunità di mangiarsi h4 e questo finale per quanto questo pedone ovviamente è fortissimo ed è quello che mi permette di giocare per vincere non è chiaro perché non posso banalmente spingerlo e farmi dare l'alfiere in c8 perché il finale risultante torre alfiere contro torre anche laddove mi mangiassi due pedoni è un finale che a gioco corretto è pari quindi qui avrei dovuto cercare non solo di fare c7 ma anche ad esempio di magari sacrificare la torre sull'alfiere non permettere che mi venga sacrificato un pezzo in c8 quindi andare a donna senza che la donna possa essere mangiata ok fortunatamente ripeto zeitnot totale per entrambi i giocatori qui in partita desatisfatto re g1 io faccio torre 3 re g7 e qui piano piano attivo il mio re re c3 re f6 c5 su g5 io in realtà il motore suggerisce che posso anche mangiare io in partita ho fatto h5 sono contento della scelta perché in questo tipo di finali dove c'è poco materiale tu puoi sacrificare magari un alfiere su un pedone è importante avere più pedoni possibili quindi h5 dà più garanzia secondo me di vittoria torre c1 scacco re b4 in realtà qui non c'è molto da commentare perché semplicemente il bianco spinge il pedone e il re nero è tagliato fuori l'ultima cosa che voglio farvi vedere t e selfie e g6 in questa posizione questo finale che io ho vinto è un finale che io ho studiato proprio dai libri di desantis anzi manuale dei finali uno dei libri che se siete giocatori di categoria nazionale di consiglio assolutamente di comprare e studiare perché dopo alfiere c8 io conoscendo questo finale appunto che viene trattato anche nel in questo libro di desantis qui gioco torre e 8 senza alcuna paura perché il finale degli alfieri è vinto perché questa diagonale quindi questa diagonale in gergo è chiamata diagonale corta e adesso vi faccio capire qual è il problema io faccio il giro con l'alfiere dopodiché caccio l'alfiere anche da questa diagonale va l'alfiere nell'altra diagonale e perché questo finale si vince perché essendo che la diagonale è corta quando io qui faccio il rea 6 la diagonale è corta e l'alfiere non può uscire dalla scacchiera e andare nella casa bianca diciamo questa non saprei come chiamarlo prima della 0-4 casa 0-4 quindi l'alfiere qui non può andare da nessuna parte ovviamente quindi non non c'è modo di salvare la partita l'alfiere va via e si promuove e quindi si vince quindi questo finale ovviamente è molto semplice però durante la partita mi è sembrato molto romantico no il fatto che io abbia chiuso la partita proprio con un finale studiato insomma dal dal mio dal mio maestro bene diciamo che questa partita in realtà ho fatto parecchie imprecisioni ok ho giocato delle partite anche partite che vi ho mostrato qui su chest render molto molto più precisa questa è stata un po sporca come partita già ho fatto l'inversione a mossa 6 quindi non non è stata una delle partite diciamo dove ho giocato meglio però a livello concreto sono estremamente estremamente soddisfatto poi come ho detto per me questa partita aveva un valore assolutamente diverso e particolare e il tutto diciamo è stato suggellato dalla vittoria finale del torneo di arco insomma io onestamente una settimana dopo sono ancora senza parole per me è un risultato incredibile diciamo è una una settimana che ricorderò come una delle migliori settimane scacchistiche della mia vita a livello proprio di di emozioni non solo per la vittoria ma anche ad esempio per per questa bella partita e per per tante altre detto questo vi do appuntamento ai prossimi e prossimi video quindi sto cercando di pubblicare sempre sempre di più sul canale che ormai è ritornato pienamente attivo quindi anche oggi grazie di aver seguito la mia analisi e appuntamento alla prossima